pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati questa domenica abbiamo la gioia di celebrare la solennità di tutti i santi dunque prima di cogliere almeno uno spunto dal vangelo delle beatitudini è bello soffermarci su altri due aspetti che cos'è la santità e chi sono i santi vediamo un po anzitutto che cosa è la santità la santità non è una generica infallibilità né una sorta di esasperato perfezionismo né un privilegio per pochi la santità è l'unione con dio dunque la perfezione nell'amore dio solo è santo il tre volte santo kadosh in ebraico che letteralmente significa separato dio è sicuramente separato dalla realtà nel senso che è altro rispetto alla realtà creata soprattutto è separato dal male lui è solo amore solo bene e noi siamo creati a sua immagine e somiglianza dunque dobbiamo essere santi per realizzare la nostra identità e la nostra natura più profonda potremmo dire che la chiamata la santità deriva dalla nostra stessa nobiltà noblesse oblige potremmo dire la nobiltà obbliga e siamo chiamati ad essere santi dio in cristo ci fa dono della sua santità cioè ci rende partecipi di sé della sua vita in noi solo nella misura in cui saremo santi potremmo essere persone vere riuscite potremmo dire che allora il contrario di santo non è dannato ma fallito leon blois diceva non c'è che una tristezza al mondo quella di non essere santi capiamo allora miei cari che la santità non è un privilegio per pochi ma è una chiamata per tutti è una chiamata lasciarsi amare da dio e ad amare ad amare lui e gli altri secondo passaggio chi sono dunque i santi i santi non sono super uomini o mega donne i santi non sono nati perfetti come ha detto il papa sono come noi come ognuno di noi persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale con gioie e dolori fatiche speranze ma la differenza grande sta nel fatto che quando hanno conosciuto l'amore di dio lo hanno seguito con tutto il cuore senza condizioni o ipocrisie hanno quindi coltivato l'amore l'unione con dio vivendo secondo il santo vangelo hanno speso la loro vita al servizio degli altri hanno sopportato sofferenze avversità senza odiare rispondendo al male con il bene diffondendo gioia e pace noi spesso pensando i santi pensiamo a degli esempi inarrivabili o siamo tentati di scoraggiarci quando contempliamo appunto modelli di santità che ci sembrano irraggiungibili ma dobbiamo tener conto che ci sono delle testimonianze che sono utili per stimolarci e motivarci ma non perché cerchiamo di copiarle perché rischieremo di allontanarci da quella via unica e specifica che il signore è in serbo per noi quello che conta ha detto ancora il papa e che ciascun credente discerna la propria strada e faccia emergere il meglio di sé quanto di così personale dio ha posto in lui e che non si esaurisca cercando di imitare qualcosa che non è stato pensato per lui ognuno di noi infatti miei cari è unico e ripetibile tutti siamo chiamati ad essere testimoni del signore ma esistono molte forme di testimonianza non pensiamo solo ai santi canonizzati o già beatificati ma quanta santità vediamo attorno a noi nei genitori che crescono cristianamente con tanto amore i loro figli negli uomini e donne che lavorano con solerzia nei malati che offrono il loro dolore nei religiosi e nelle religiose che continuano a sorridere nella fedeltà e anche nell'anzianità nei sacerdoti che si spendono amorevolmente per il popolo insomma in quante circostanze possiamo vedere la santità quotidiana quella della porta accanto la classe media della santità ultimo passaggio entriamo nel vangelo tutti siamo chiamati a camminare sulla via della santità e questa via ha un nome un volto che è quello di gesù e nel vangelo di oggi ci mostra la strada quella delle beatitudini ecco le beatitudini miei cari sono un tema paradossale cioè gesù ci indica una via di felicità e di pienezza totalmente opposta a quella che ci propone il mondo vi offro soltanto qualche porta così per per capirle meglio senza pretesa di esaustività in cinque minuti anzitutto le beatitudini non sono una nuova legge più esigente della prima dei comandamenti potremmo dire che sono una condizione che viene da un cuore nuovo le beatitudini sono potremmo dire il modo di vivere di coloro che hanno aperto il cuore allo spirito santo le beatitudini viaggiano tutte insieme tutte insieme ritraggono in fondo il volto di cristo il volto di dio che si è fatto uomo potremmo dire il volto dell'uomo pienamente realizzato le beatitudini se ci fate caso sono strutturate con la proclamazione della beatitudine beato il povero in spirito beato chi ha afflitto beato chi ha fame e sete rigiustizia quindi viene la motivazione per la quale è beato la prima è al presente tutte le altre sono al futuro cioè ci dicono che c'è una beatitudine una pienezza che uno può sperimentare già ora e che sarà colma in dio e quelle al futuro soprattutto sono al passivo cioè le beatitudini non sono frutto soltanto della buona volontà ma sono un'opera che dio compie in noi se abbiamo un cuore aperto a lui particolarmente importante è la prima che in un certo senso è la porta d'ingresso di tutte le altre sulla quale mi soffermo beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli per capire meglio guardiamo al testo greco e poi al retroterra biblico in greco abbiamo l'espressione makarioi o i ptokkoi topneumati beati i pitocchi in spirito il pitocco è uno che non ha niente era la parte più povera della società dove c'erano i ricchi quelli che lavoravano poi per vivere e i pitocchi erano quelli che non vivevano se un altro non li aiutava potremmo dire che è il mendicante quindi qui si parla di beatitudine per colui che è mendicante nello spirito quindi la parte più profonda è povero nella sua dimensione spirituale se guardassimo al retroterra biblico al quale gesù ovviamente fa riferimento incontriamo nell'antico testamento la figura degli anawim i poveri il cui significato originario rimanda forse al curvarsi del servo verso il suo signore o del debole che non riesce ad ergersi cioè era un vocabolo usato per rappresentare i poveri gli oppressi ma non solo dupont e poi tanti altri studiosi hanno fatto notare che non si tratta soltanto di persone povere ma di coloro che erano umili miti la cui umile dolcezza si trasformava in un atteggiamento di sottomissione fiduciosa a dio cioè tante volte specie nella povertà nell'oppressione la persona anziché confidare negli idoli morti dei soldi o del potere si affidava a dio ecco perché matteo specifica povero in spirito non si limita a parlare di poveri come farà luca perché perché qui si sta parlando di poveri del signore cioè chi è il povero in spirito è una persona aperta a dio e agli altri è colui che mendica lo spirito che è povero di quella presunzione micidiale dell'autosufficienza che si riconosce sempre bisognoso di dio che ha un cuore aperto alla grazia è colui dunque che non fonda la sua vita sugli idoli morti del loro delle cose del proprio successo orgoglioso ma solo sull'amore e sul suo unico signore capite dunque che qui non si tratta di una povertà meramente materiale io posso essere povero ma estremamente orgoglioso e presuntuoso si parla di un atteggiamento esistenziale di apertura a dio che luca poi completterà parlando specificamente di povertà perché perché la povertà materiale la sobrietà il distacco aiuta sicuramente ad avere un cuore più unito a dio e meno disperso in tante cose inutili quindi la porta d'ingresso per le beatitudini è questo atteggiamento questo cuore mendicante dello spirito santo dovremmo chiederlo con insistenza ogni giorno spesso e volentieri durante la giornata riconoscerci poveri bisognosi di dio noi tante volte passiamo la vita cercando di dimostrare di essere chissà chi pretendendo di essere autosufficienti da dio e dagli altri il delirio di una sorta di autonomia che ci porta a voler essere padroni assoluti della nostra vita a volte anche nel cammino di fede si pensa che uno tanto più cresca tanto più sia perfetto cioè meno bisognoso di dio e degli altri non funziona così miei cari un cammino autentico una spiritualità autentica ti porta a riconoscere sempre più i tuoi limiti e a sentirti amato proprio con tutti i tuoi limiti e fai dei tuoi limiti l'aggancio con dio perché lì ti scopri bisognoso sempre e sempre di più di lui e lì impari ad essere più misericordioso anche con gli altri da qui poi tutte le altre beatitudini che ovviamente lascio alla vostra riflessione possiamo dunque dire che la nostra mendicanza e la nostra povertà diventa il luogo di incontro con l'amore di dio dunque è inutile prendere in odio delle proprie fragilità avercela con se stessi per i propri limiti ma è importante valorizzarli perché perché proprio lì io posso sentirmi ancor più amato sostenuto e aiutato dalla grazia oggi miei cari in conclusione vanno di moda le scommesse noi abbiamo due possibilità o fidarci di gesù scommettendo sul fatto che è dio e che solo lui è beato e può renderci davvero e pienamente beati o lasciar perdere banalizzare questo testo e continuare a vivacchiare come abbiamo fatto fino ad oggi i santi la loro scommessa l'hanno fatta camminando insieme agli altri nella chiesa ora tocca a ciascuno di noi e tu su chi vuoi scommettere la tua vita che il buon dio vi benedica a tutti pace e bene